spettacolo ragazzi questo sughetto è spettacolare e queste qui ve le sognate la notte guardate qui che spettacolo ragazzi polpettine dal sughetto strepitoso queste se le provate non le lascerete mai più la prima cosa da fare togliamo l'anima centrale in mezzo spiccio d'aglio la andiamo a schiacciare con un batticato andiamo a rimuovere andiamo a prendere tutta questa polpa d'aglio questa purea d'aglio che abbiamo fatto così e la riponiamo in 300 grammi di carne trita di manzo abbiamo qui del pane raffermo spugnato nel latte andiamo a strizzare per bene questo pane raffermo così lo riponiamo sempre nei 300 grammi di carne trita siamo anche questi qua così 30 40 grammi di parmigiano caglietto di sale pepe si deve sentire che un bel po di pepe sopra un uovo poi di pressemolo tritato e iniziamo a impastare il tutto amalgamiamo bene tutti gli ingredienti così di modo che vediamo che riusciamo a fare queste fantastiche polpettine le polpettine volete fare anche così piccoline oppure come nel mio caso volete fare grandi e voilà vedete con 300 grammi di carne trita di manzo sono uscite 17 polpettine adesso andiamo a metterle nella farina così andiamo a sistemarle nella farina facciamo cadere la farina in eccesso e le riponiamo di nuovo nel piatto andiamo ad infarinarle tutte quante così vedete giro l'olio pariamo le polpettine dopo due minuti iniziamo a girarle così vedete siamo a fiamma medio bassa arrivati a questo punto andiamo a rosolare un pochino tutte le polpette di tutti i lati rialziamo la fiamma al massimo rosolare a fiamma ragazzi per forti più dobbiamo aggiungere un bicchiere di vino bianco un pochino l'alto andiamo ad aggiungere giusto due dita di acqua vedete due dita di acqua così abbiamo al minimo il copercio sopra e lasciamo cuocere per 15 massimo 20 minuti a fiamma bassissima casomai asciuga un pochino il sughetto ci andiamo ad aggiungere altre due dita d'acqua per questo non abbiamo fatto sfumare tutto il vino velocemente abbiamo sfumato un pochino metà parte del vino dare aroma il vino bianco questo sughetto dopo 5 6 minuti le andiamo a girare su se stesse dopo 15 massimo 20 minuti andiamo a rimuovere le polpettine le mettiamo in una bulla di vetro come nel mio caso in una bulla d'acciaio il sughetto è poco quindi andiamo ad aggiungere altre due dita d'acqua così andiamo ad aggiungere anche un pizzico di sale perché il sughetto non l'abbiamo salvato alziamo adesso la fiamma al massimo pensiamo questo soggetto questo soggetto siccome che le polpette erano imparinate si avvenzierà tranquillamente adesso vi faccio dire affiamma mi piace addensiamo adesso il sughetto si è iniziano a diventare bello cremoso vedete si è a separare quando vedete che si fa questa striscia che si separa il sughetto andiamo a spegnere e lo riponiamo a dare questo sughetto bello denso tale che spettacolo ragazzi questo sughetto è spettacolare andiamo ad aggiungere un altro poco di sughetto sopra puzzadina di prezzemolo fresco così e queste qui ve le sognate la notte guardate qui che spettacolo ragazzi polpettine dal sughetto strepitoso è in ordine che vi dico che qui la scarpetta è proprio d'obbligo guardate qui che spettacolo ragazzi questo sughetto è spettacolare bene lo zio vi saluta e vi da appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao